questo è il karma così impari merda che prestigio è quello la figa e altina ma per forza adesso non puoi tirare indietro dopo che l'hai detto ma oggi come siamo andati sono aumentati gli uniti doppio di ieri bene ottimo sì ma non è immediata i malati sono ancora 65.000 ho visto che lì a milen hanno fatto un bel tesino con la viabilità ho fatto il tetano e mezzo è bellissimo a me piace un botto ci può comunque si basta prendere il nuovo code e fidati sono più brutte eh le mappe devo dire che ci sono impegnati oh io non so cosa c'è sta mappa però a me piace ah beh no fa bene so se non ci credo oddio ma elma però lì beh c'è un helicopter meccrush neanche troppo male winter ma niente io vengo flashato e ucciso cioè io vengo flashato e non vedo qualcosa che succede e muoio male tripla fare il mio ride ah ecco ok ah io lo lancio devo provare a farlo serio eh tiralo io non l'ho tirato io sono senza anima sono te però finiti i colpi ma non so che cazzo fare un g36 oh pieno di gente pieno di gente nooo son morto eh davo 30 colpi cazzo ma se ne so che da 10 oh io ero a 16 tipo devo sparare devo fare non vado in serie e poi 10 devo arrivare a 30 oh ce l'abbiamo dietro ma è meglio se arrivo a 30 ma che cazzo fammi tirar su subito un'arma va se non si capisce un cazzo c'è ne entra sta entrando uno no non te l'ho ucciso perché al martirio del merda elicottero alleato in arrivo uabi nemico in volo no 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 muoio 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 una granata no no non sono morto non vedo un cazzo è entrato uno è aperto ma sei vivo o morto? eh scusa te l'ho fregata eh te le lascio dai no a vero tanto muoio dove cazzo siamo io e te qua no la granata a caso dai sei stronzo ma poi io ero in fondo cioè tu eri lì all'ingresso io no cioè come cazzo l'ha tirata male quella granata per colpire me ah non me l'ha tirata il raid ma figa ma figa ma figa non muore ma vabbè dai ma morto completamente a caso bel porca dio porco ma che cazzo dio vabbè allora basta allora niente adesso muoio ogni secondo via dai fanculo pensiamo a fare le uccisioni dai sono morto è che sta mappa fa schifo la vera e dobbio la gente fa schifo sono un po' per cui giocare ma questo è vivo è morto non si capisce un cazzo è soldato di scherdinger dov'è dov'è mi serve l'anti-wav mi sa ma come mi ha ucciso dai non ce l'ho l'anti-wav cazzo ah si si ce l'ho la classe con l'anti-wav lo prometto io no dove stracazzo sono no io non ce l'ho qualcuno là no e non lì bomba landura merda raid te accoltellato tua mamma sono tutti là in fondo ce l'hanno davanti a cazzo merda mi hanno sparato in due ero troppo avanti da sopra la finestra che cazzo che cazzo il giaggo porco giuda in attesa coavi nemico in volo in duggernaut or rai d'aereo pro ranne contro il lì mi hanno fatto headshot con una granata no si dai ma da te mi ha ucciso pezzo di favore no cazzo sono andato dove ho tirato il raid ma sei stronzo ma zio caro evidentemente un minimo stronzo si quel con una granata ha fatto una doppia a caso bella sta roba io adoro una figa puttana ma che cazzo lo stavo ricaricando ma intanto ci saranno 23 hitmarker per uccidere uno e non ho mai capito sta roba perché non hai links eh adesso l'ho fatto anch'io vabbè no sarà rimasto a terra sarà il coglione ma ce n'è qualcuno di loro senza martirio anche ma non lo so e a me infatti dà le uccisioni dopo un minuto perché rimangono a terra martirio martirio è pieno e è pieno di quelli che non sono per terra che è un po' di uccidere di uccidere qualcuno altro ma si che cazzo non so neanche dove mi ha chiesto la mano l'uobi lo tiro in testa finché moglie lo tiro in testa carlista no vaffanculo sta granata di merda in mezzo alla piazza no avevano il wire venenito perché come questo faceva sapere che ero lì oh io madonna ma che pappare non vaffanculo coglione sai cosa sto mappa non è male però non si fuggi il quale poi winter di sera oscuro non si fuggi un car di mezzo però per quello dico bomba la maria no 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 andate a cagare merda è sopra è sopra Sgu è ancora sopra non lo uccide sei dietro chi è chi è qui sei salvato sono in due in casa sono entrato per ripararmi sono entrato per ripararmi dall'attacco aeroge entrano in due loro vedete vabbè la kappa che cazzo diventato Gesù arriva arriva soldati siamo vicini alla vittoria sei da dove da dietro dio o av comunque senti lo tiro un altro elicottero tanto cazzo parcio sennò il tempo sta per scadere no sono morto di nuovo a dieci piglia ho fatto un milione di chili in sta partita guavi alleato online no mi ha ucciso vabbè oh ogni tanto quando avete voglia di giocare bene in crash ma guarda io lascio stare stasera ho già capito 45 e 11 non mi sembra male eh 55 e 10 però meglio andate a fare in culo tu da doveva là dove esce il dubbato 26 e 20 no 20 e 26 ho comunque gli altri alleati forti non l'ho vista eh adesso guardali un simpatico 8 13 11 26 10 28 ho fatto anche bene io allora dai sei un campione